Il Comune d'Isola del Gran Sasso lamenta il fatto che nel piano interventi ad esempio della provincia sulle strade provinciali non ce ne sia alcuna del territorio comunale d'Isola del Gran Sasso nei prossimi interventi, ma anche di quelle a carattere nazionale gestite dall'ANAS. Sindaco, che succede? Non lo so, io evidenzio questo fatto soprattutto dopo l'ultimo comunicato che ho visto da parte della provincia in cui ci sono una serie di appalti da fare urgentemente e poi programmati è l'unico comune che non compare, anche di quelli che riguardano il cratere Isola del Gran Sasso. E' una problematica seria che io sicuramente sottoporrò all'attenzione non solo della provincia perché ho avuto quattro sopralluoghi dalla parte della provincia, quindi conosce bene la situazione, ma anche della prefettura e del subcommissario Socodato che è il dirigente dell'ANAS si occupa di questo sperando di riuscire ad attirare l'attenzione. Perché sono strade, nel comune di Isola ci sono strade anche strategiche che riguardano il raggiungimento di sorgenti del ruzzo che poi portano l'acqua a tutta la provincia. In che condizioni sono queste strade? Sono in condizioni molto molto precarie se non disastrose. C'è una frazione di Isola San Massimo che tra poco non potrà essere più raggiunta, già non è raggiunta da quasi un anno dalla tua. E questo in un ambiente, in un territorio montano che già risente di tantissime altre problematiche. Io faccio presente alcune di queste, cioè il tratto che da Isola va a Fano a Corno e raggiunge anche Cerchiara e Casale San Nicola porta anche a una densità di traffico come strade di montagna tra le più elevate della provincia. E porta naturalmente il ruzzo anche ad arrivare al potabilizzatore di Casale che gestisce poi tutta l'acqua che viene dal Gran Sasso. La strada, il tratto di strada che da Isola porta a Pretara, le piene del fiume, porta alle sorgenti di Fossa Ceca e di Vacelliera, anche quelle gestite dal ruzzo. E poi c'è il tratto di strada che da Isola va a Colliberte a San Massimo, con San Massimo quasi completamente isolato a causa di un ponte che la provincia ci ha detto che metterà nel decreto ponti, ma il resto della strada è disastrosa. Perché non sono state inserite secondo lei? Non lo so, noi gli stralci li abbiamo però per adesso i lavori non sono stati effettuati. Gli altri io spero di riuscire ad avere un altro colloquio con la provincia, anche di far presente questo anche al prefetto, al vicario del prefetto e spero anche al subcommissario Soccodato perché la problematica è molto molto seria.